La migratrice di Lanti è sicuramente un punto sumamente importante. La situazione finanziaria dei paesi Aruba, attualmente è molto più preoccupante, quando la pandemia di Covid-19, è presentata mondialmente. La situazione è necessaria di trovare una forma di entrare nel paesi Aruba, per la nostra isla, e quindi prendendo anche l'occasione che il golpe che abbiamo ricevuto l'area turistica, ci si tratta di un'altra forma. La mia persona è necessaria di fare il trasporto sicuramente, e attivamente, conjuntamente con i diversi departamenti, qui nella metà pubblica rurali, di direccii Scei e Aruba, e quindi crea la possibilità di un altro tipo di entrare extra per il nostro paese, e quindi agrandeci e aiutare a stimolare la nostra economia. e quindi ci si tratta di un'occasione, e quindi ci si tratta di un'occasione più attivo. e quindi ci si tratta di un'occasione più attraverso il nostro settore maritimo. e quindi ci si tratta di un'occasione più attraverso il nostro settore maritimo e attraverso il nostro settore maritimo e attraverso il nostro settore maritimo. e quindi ci si tratta di un'occasione più attraverso il nostro settore maritimo e attraverso il nostro settore maritimo. e quindi ci si tratta di un'occasione più attraverso il nostro settore maritimo e attraverso il nostro settore maritimo e attraverso il nostro settore maritimo e attraverso il nostro settore. ologico il nostro settore maritimo che sia più attraverso il nostro settore maritimo, perché ci si tratta di un'occasione capacità aiutano alle colori che sonobau heartannate le store maritimo micro, oppure alle qual 처� MCQuizia azale le corso maritimini, a devol Bourbon 홍areということで attraverso i soni hanno il miglior stitchesi. Il nostro territorio è sicuro che genera un'entrata addizionale per il Paisa Ruba. Il motivo di questo è che abbiamo trovato un'oil rig di Sibawa che fuori di parte del nord dell'isola, ma abbiamo attualmente due oil rigs stasionali. Questa è una piattaforma che attualmente non c'è lavoro, non c'è staccionato, non c'è una pandemia mondiale che ha causato un po' di lavoro in Paracchietto, ma nel mondo petrolero, anche c'è un po' di più duro. Questa è una piattaforma che non c'è un po' di più di tempo, e di due, quando c'è un po' di più, c'è un po' di più, c'è un po' di più, c'è un po' di più di informazioni, e di parte di Direccia Schieffert, nel Ministerio, non c'è un po' di più, non c'è un po' di più. Questa è una piattaforma che è beneficio di direccio. Il beneficio di non è solamente direccio, inoltre, una volta un po' di più, un po' di più, un po' di più di più, c'è un po' di più di più di più, e contribuisce a un po' di più di più di più, direcciamente, ci sono stati di un tariffo a base di tonaggio, come è peso, ma anche ci sono stati di più di più, per essere stati risolente, non c'è un po' di più. Per questo è il giusto che ci sono stati facendo un po' di più, ma anche un po' di più, ma anche un po' di più di più, che un po' di più ci sono stati di più. E' beneficio di quello che hai, questo si è beneficio di direccio di chi系ni, e possiamo fare da un po' di più, però è beneficio di direccio di questo, è un effetto di uno Open, la un' Control, sia una piattaforma, di una maniera che si staciona nella nostra zona territoriale per diversificare la nostra economia. Per esempio, mi potrei sapere che ci sono un tripulante a bordo, un tripulante che si riconosce, che si riconosce di altri produttori, ma anche, si riconosce, per esempio, le parti di mantenere la piattaforma. In questo modo, mi potrei avere un altro spinoff effetto per sopra una pubblica locali, come si arriva a 3C, produttori e sopots, per esempio, si riconosce anche per la segurezza, ci sono un effetto che si riconosce, ma più grande e contribuisce direttamente alla nostra comunità e la piattaforma direttamente nella cassa di governo. Ora, per esempio, si imprende produttori, per esempio, ma pagare BBO e sopots. un e altro spinoff effetto si guarda un crude change per esempio se c'è un camion di tripulante per esempio se c'è un c'è un pico tripulante arriva a una plataforma non si c'è un paese cammino un altro tripulante non si c'è un hotel per andare a un altro per andare a un transporte taxi bus etc che c'è un hotel restaurant e così fort il spinoff effetto che si guarda una copia più grande però si guarda solo parte dell'economia un'altra parte si guarda non si guarda una plataforma che si staciona una zona territoriale per un tempo largo che si guarda in quasi 2 anni con la bai e si guarda un beneficio maritimo qui che si guarda attrae In questo periodo, per quanto riguarda i treze anni, un cambiamento di inglese è colt stacking, colt stacking, quindi non ho avuto ancora colt, quindi non ho fatto un altro lavoro, quindi non ho avuto il territorio, e quindi non ho avuto il territorio. Grazie a tutti.